Ciao a tutti ragazzi, per chi non mi conosce mi presento, sono Marco e lavoro nel negozio Passport. La nostra realtà commerciale è composta da due negozi sul territorio, uno che si trova a Busca in provincia di Belluno e un negozio che si trova a Signoressa in provincia di Treviso. Abbiamo anche uno store online che si chiama www.passport.it dove tutti voi potete, se volete, consultare il nostro catalogo prodotti e perché no, anche acquistarli. Era da un po' che stavamo aspettando sul mercato e finalmente è arrivata, sto parlando ragazzi di ASICS GEL NIMBUS 24. Andiamo ora a svelare le caratteristiche tecniche di ASICS GEL NIMBUS 24, ma anzi lasciate che vi spoilere qualcosa. Aspettate la fine del video perché ho introdotto una bella novità che vi consiglio di guardare. Iniziamo a presentare questa nuova scarpa partendo dalla tomaia. La prima cosa che salta subito all'occhio è la nuova tramatura del mesh monofilo che viene utilizzato. Un mesh che dà un ottimo contenimento del piede. NIMBUS è sempre una scarpa ben strutturata e che accoglie bene il piede, ma in questa nuova versione il mesh sembra più leggero, più morbido al tatto, per aumentare quello che è il comfort per il piede e anche la traspirazione. Un cenno anche alla lacciatura. La lacciatura è composta da sei fori passalaccio. Sono disposti a zigzag e questo serve a fare in modo che la lacciatura diventi più stabile e più precisa. Un altro piccolo appunto per quanto riguarda la linguetta di questa scarpa. In questa nuova versione ASICS utilizza una linguetta molto elasticizzata, molto morbida ed è stata scarnita l'imbottitura che c'era nelle versioni precedenti. Questo per aumentare ulteriormente il comfort. Il tallone presenta sempre un'ottima imbottitura sulla zona dell'alloggiamento del tendine d'Achille. Abbiamo sempre una conchiglia protettiva e contenitiva sulla parte posteriore e l'altezza è un'altezza adeguata, quindi il piede calza perfettamente all'interno di questa scarpa. Due dati tecnici per quanto riguarda le caratteristiche di ASICS GELNIMUS 24. Parliamo di una calzatura che ha un drop di 10 mm nella versione uomo e 13 mm nella versione donna. Parliamo ancora di una scarpa che pesa 290 grammi sempre nella versione uomo e pesa invece 247 grammi nella versione donna. L'intersuola rappresenta il cuore di una calzatura da running ed è proprio su questa parte che ASICS si è concentrata con l'applicazione di tutte le nuove tecnologie che adesso andiamo a vedere. Iniziamo con la nuova mescola che si chiama Flight Foam Blast Plus una mescola alleggerita ma che dà allo stesso tempo un'ottima ammortizzazione un ottimo primo impatto molto soffice e molto morbido ma che garantisce anche una buona reattività soprattutto sulla fase dell'avampiede. Una calzatura che rimane sempre molto ben flessibile l'inserto in gel sul tallone e sull'avampiede che è una caratteristica costruttiva che contraddistingue ASICS in questo caso notiamo il cuscinetto in gel molto ampio sulla parte tallonare invece il cuscinetto in gel è posizionato sulla zona di metatarsi nella parte anteriore però in questo caso non è visibile a occhio, è all'interno della suola. L'altra caratteristica, anzi l'altra novità molto interessante a nostro avviso è la nuova tecnologia TRUSTIC è una tecnologia che serve a garantire stabilità e controllo del movimento ci tengo a ribadire che parliamo comunque di una calzatura neutra la tecnologia TRUSTIC dicevo è una piastra, una struttura in plastica che viene inserita nell'intersuola lo vediamo nella parte interna in questa sequenza, in questa immagine che serve appunto a sostenere l'arco plantare e a garantire un ottimo controllo torsionale terminiamo la spiegazione delle caratteristiche tecniche di Nimbus 24 con un cenno anche al battistrada su questa versione ASICS utilizza il battistrada che si chiama AHAR è una mescola di gomma che è il giusto compromesso fra trazione, grip e anche resistenza all'usura abbiamo un battistrada che ha un'altezza di circa 4 mm le linee di flessione sono ben marcate per garantire un'ottima stabilità e un'ottima facilità di rullata una gomma che si presta ad essere utilizzata tranquillamente su asfalto ma può affrontare con estrema tranquillità, perché no, anche strade bianche a chi potremmo consigliare ASICS gel Nimbus 24? per chi corre a piedi, quindi per un runner, Nimbus 24 è una classica scarpa d'allenamento perfetta per gli allenamenti quotidiani su qualsiasi distanza l'ammortizzamento che dà è veramente una scarpa che ti dà sicurezza e ottime prestazioni allo stesso tempo però è una calzatura che ti consente di fare anche le gare di media e lunga distanza può essere utilizzata anche da podisti un po' più leggeri e un po' più veloci perché la reattività e la leggerezza che ha raggiunto con questa nuova versione sono veramente due caratteristiche a nostro avviso molto importanti e se invece dovessimo consigliare Nimbus per chi va a camminare direi che Nimbus è una calzatura che può essere apprezzata tranquillamente per chi ama andare a camminare perché è una calzatura comoda, è molto morbida, ti dà una fase di impatto veramente eccezionale ha un alloggiamento delle dita del piede molto confortevoli e questo può essere veramente un plus soprattutto nelle signore che soffrono un po' di alluce valgo quindi un plus di questa calzatura insomma che dire è una scarpa che a nostro avviso va consigliata perché è veramente un prodotto che merita di essere provato e utilizzato per le attività quotidiane sia per la corsa ma anche per la camminata ecco la sorpresa di cui vi parlavo all'inizio video vorrei chiudere questo video appunto facendo delle piccole differenze fra la versione Nimbus 24 e la sorella precedente Nimbus 23 ma andiamo subito nel dettaglio e non perdiamoci in chiacchiere prima cosa che si nota è la differenza nella tramatura del tessuto utilizzato una tramatura a trama più compatta nella versione 23 tramatura invece a trama appunto più larga nella versione 24 per quanto riguarda l'allacciatura abbiamo sostanzialmente lo stesso tipo di allacciatura quindi squadra vincente non si cambia in questo caso novità e differenza quindi sostanziale fra le due versioni la troviamo anche nella linguetta nella versione 23 abbiamo una linguetta abbastanza imbottita è leggermente più bassa sul collo del piede nella versione 24 invece abbiamo una linguetta più alta ma sensibilmente meno imbottita al tatto risulta essere molto più morbida e anche calzando la scarpa questa morbidezza si percepisce tutta per quanto riguarda la parte talonare fondamentalmente la parte talonare è rimasta identica è stato tolto questa forma di questa specie di diciamo di esoscheletro che c'è nella versione 23 ma nella versione 24 la conchiglia interna è davvero molto protettiva altra grande novità però riguarda l'intersuola l'intersuola è stata radicalmente cambiata nella versione 23 avevamo un'intersuola realizzata in flight foam nella versione 24 avevamo invece un'intersuola che si chiama flight foam blast plus è un'intersuola che è più leggero rispetto alla versione precedente infatti Nimbus è scesa di circa 20 grammi di peso rispetto alla versione 24 rispetto alla 23 per quanto riguarda poi il cuscinetto in gel è rimasto praticamente lo stesso e l'altra cosa interessante da sottolineare è il nuovo sistema Trastic il sistema Trastic lo vediamo in questa immagine è questa piastra in materiale plastico nella versione 23 è posizionato a ridosso del battistrada invece nella versione 24 è stato tolto dal battistrada è posizionato all'interno dell'intersuola nella parte del mesopiede in questa zona qui si vede questa parte blu la funzione ovviamente è sempre la stessa dare stabilità e controllo del movimento infine per quanto riguarda il battistrada notiamo che il battistrada è rimasto praticamente identico quindi le garanzie che avevamo nella versione 23 ritroviamo anche nella versione 24 spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato anche questa chicca questa novità diciamo delle differenziazioni fra la versione 23 e la versione 24 come sempre se avete dubbi o domande i commenti sono a vostra disposizione non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale youtube e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle novità che andiamo a proporre vi aspettiamo nei nostri negozi a Busche e a Signoressa e se abitate lontano perché no anche online sul nostro sito www.passport.it ciao